Benvenute, benvenuti sul mio canale, iscrivetevi, attivate la campagna notifiche e lasciate un bel like la vigilia di ferragosto, ma è una vigilia operativa, siamo qua a Torino, siamo sul pezzo, perché banalmente si avvicina l'esordio, la parte dei bianconeri in campionato, lunedì all'Allianz con il Como, ma non nascondiamoci, siamo al 14 di agosto e la nostra concentrazione è esclusivamente, principalmente, decidete voi, rivolta al mercato, soprattutto su ciò che accadrà probabilmente, speriamo, in queste ore per quanto riguarda Pier Calulu, che ieri non figurava neanche indistinta in occasione del trofeo Berlusconi a San Siro tra Milan e Monza, chiaro, noi sappiamo ormai da 48 ore di come Juventus e Milan abbiano un accordo totale, non lo definirei neanche un principio di accordo, un accordo a definire, no, un accordo totale sulla base di un prezzo oneroso con diritto di riscatto, se la Juventus riscattasse poi il calciatore garantirebbe al Milan potenzialmente altri 3 milioni di bonus, una percentuale sulla futura rivendita, insomma, le due dirigenze da questo punto di vista hanno fatto tutto, ora serve però che anche lo stesso calciatore confermi quello che aveva fatto inizialmente, perché onestamente, se tu vai a parlare con una società per cercare di mettere le mani su un calciatore, soprattutto per gli usi e costumi nel mercato moderno, prima devi avere la certezza che lo stesso calciatore voglia venire da te, e a me risulta totalmente come nei primi approcci tra la Juve e l'entourage di Calulu ci fosse stata un'apertura totale da parte del 24enne centrale di Lione, e dunque, semplicemente, la Juventus si aspetta che il calciatore dia l'ok definitivo per poi fargli fare le visite mediche e consegnarlo nelle sapenti mani di Tiago Motta. Nella testa della Juventus, quindi ora Calulu, è il tassello che manca in difesa, no, un giocatore che può fare il centrale, e lo ha fatto anche molto bene al Milan quando ha fornito delle buone indicazioni fisiche, infatti è stato il centrale titolare assieme a Tomori in occasione dell'ultimo scudetto fin qui ottenuto dal Milan con Stefano Pioli, poi è vero che Calulu sa anche giocare a destra, è un giocatore eclettico, per caratteristiche mi sembra Tiago Mottiano, perché è molto aggressivo, tenta l'anticipo, è forte l'uno contro uno, a gamba, quindi capisco che se hai 3 milioni da investire per un difensore ci stia questa scommessa, che però da punto di vista atletico propone delle incognite, perché credo che nella passata stagione Pier Calulu con il Milan abbia giocato esclusivamente 11 partite. Devo dire che parlando con colleghi del Milan e tifosi del Milan non è che siano così felici di vederlo, se tutto verrà confermato in queste ore a Torino, qualcuno anzi ritiene che in Milan stia rinforzando una diretta concorrente, cedendo un calciatore che se poi dovesse rilanciarsi a punto di vista fisico potrebbe rivelarsi una piacevolissima sorpresa. E noi da canto nostro, in chiave Juve, speriamo proprio che possa andare così, perché significherebbe a basso costo aver azzeccato una scommessa e inserito un calciatore, che comunque è un classe 2000 che magari ti potrebbe anche garantire progettualità. Quindi, ora, però, dobbiamo sempre rimanere cauti, lo dimostra anche la vicenda a Todiboh, dove c'era stato quel blitz della Juve dove si pensava che ormai il calciatore fosse un momento all'altro in procinto di arrivare qua per le visite mediche, e invece poi le visite mediche le ha fatte con il West Ham. Quindi, atteniamoci alla cronaca. L'accordo è totale, quindi in Milan da 48 ore, il giocatore ieri non ha preso parte al trofeo Berlusconi, e questo è un altro segnale di come, quantomeno a livello di società, i rossoneri abbiano preferito cautelarsi perché poi magari succede un infortunio, insomma, poi scende il mondo, per cui, niente, attendiamo questa sorta, non so, di finirlo di ok finale, per poi mettere a segno quello che sarebbe il sesto colpo dell'estate juventina, considerando anche Vasilie Azic. Intanto vi confermo anche l'indiscrezione che abbiamo dato ieri sul bianconero, ovvero Bocek e Szczesny che risolverà il contratto con la Juve, mi risulta che fino ieri, tarda serata, le parti abbiano lavorato, quindi intendo i due studi, i rispettivi studi legali, e ci sia un accordo, neanche un principio, un accordo ormai totale, e mi aspetto dunque che da un momento all'altro possa uscire il comunicato della Juventus con i saluti all'estremo difensore polacco, al quale auguriamo il meglio, persona schietta, persona vera, persona, se vogliamo, originale, molto originale, tra il campo e anche fuori dal rettangolo di gioco, non so cosa farà, davvero ci sono tantissime correnti di pensiero, c'è chi dice che si potrebbe ritirare dopo questa buona uscita che è in cassa dalla Juve, altri invece dicono che potrebbe rimettersi in gioco, qualunque cosa farà, Szczesny rimarrà. Nelle nostre simpatie e nella storia della Juventus, perché, vado a memoria, aiutatemi voi, credo che abbia vinto tre scudetti, tre Coppa Italia e due Supercoppa italiane, credo qualcosa di simile, ecco, ha giocato oltre 200 partite, è stato a Torino per sette stagioni, ora, non stiamo parlando magari di Gigi Buffon, ma parliamo sicuramente di un portiere che ha fatto abbondantemente il suo, e come vi dicevo ieri, ha questo grosso pregio di non aver fatto pesare l'addio di Gigi Buffon, quindi del portiere più forte della storia, se non è questo un merito. Poi, piccolo aggiornamento, che sono quelle cose che magari uno sottovaluta, ma che potrebbero rivelarsi nel futuro delle piacevoli sorprese, perché il Genoa ieri ha chiesto ufficialmente alla Juventus Tariq Muaremovic, il centrale ventunenne che ha giocato nella passata stagione con la Next Gen. Ora, la Juve ha dato un'apertura al Genoa per Muaremovic, tra l'altro tutti i centrali, tutti i difensori che abbiamo dato al Genoa negli ultimi anni hanno fatto le fortune delle casse del Grifone, basti pensare a Radu Dragosin, ma aggiungerei anche Ricconi de Winter, che è un giocatore che quando il Genoa deciderà di venderlo, sicuramente rispetto agli 8 milioni che ha versato nelle casse della Juventus, probabilmente prenderà il doppio, un'altra bella stagione verosimilmente sì. Quindi Juventus e Genoa stanno studiando uno scambio, Muaremovic sotto la lanterna e Christos Papadopoulos sotto la mole. Papadopoulos credo che sia un centrocampista, sicuramente un classe 2004, un giocatore che ha giocato nella primavera del Genoa. Quindi, segnatevi questo nome, perché la Juventus ci sta lavorando, e se lo scambio dovesse andare in porto, Papadopoulos verrebbe aggregato alla next gen di Paolo Montero. Però, intanto, i Genoa ha chiesto ufficialmente Muaremovic alla Juventus e penso che questo scambio si possa accendere. Oggi è in programma un contatto tra le parti. In tanti mi avete chiesto di Sekulov e di Nicoluzi Caviglia. Sekulov, ragazzi, adesso non so quando arriverà il comunicato ufficiale, ma ieri è andato a Genoa per sottoporsi alle visite mediche con la Samp, che verserà nelle casse della Juventus una cifra poco inferiore ai 2 milioni. Su Nicoluzi c'è questo principio d'accordo, ormai da 8-9 giorni con il Venezia. Abbiamo aspettato che Tesman se ne andasse, ma l'hanno ben capito, ci sono delle cose che non sono state in porto, problemi di commissione e quant'altro. Di sicuro credo che la Juventus abbia dato la parola al Venezia, la stia rispettando in attesa che questa società liberi spazio a centrocampo. Quindi, oggi i riflettori puntati su Kalulu in attesa dell'ok definitivo per fare in modo che diventi il sesto acquisto di questa campagna estiva. Si imbastisce uno scambio tra Genoa Juventus, Moremovic, Papadopoulos e Scesni, tutto confermato. Credo che ormai manchi solamente l'annuncio ufficiale, però l'inscrizione che mi ha dato ieri sfocerà tra poco nella realtà, perché risolve il contratto con la Juve. Quindi saluta con un anticipo rispetto alla scarenza naturale del contratto.